Leopardi e Manzoni spesso sono considerati entrambi il maggiore esponente del romanticismo italiano. Ora il conte Manzoni e il conte Leopardi sono in realtà le due facce di un movimento estremamente variegato. È estremamente interessante vedere come i due abbiano una serie di elementi che li diversifica in modo molto approfondito. Cominciando dalla loro nascita e collocazione geografica, Manzoni nasce e opera essenzialmente a Milano con legami fortissimi familiari che gli derivano da parte di madre nei confronti dell'illuminismo e quindi legato a doppio filo con quella cultura illuminista che aveva caratterizzato la Milano da partire dagli anni Sessanta del Settecento, quindi il caffè suo nonno e Cesare Beccaria, l'autore del trattato celeberrimo dei delitti e delle pene. E quindi cittadino di una metropoli cosmopolita e in contatto anche con gli intellettuali di tutta Europa, viaggiatore e soprattutto in gioventù frequentatore di salotti letterari, anche parigini, intrattiene relazioni con molti letterati europei. Totalmente diversa la situazione di Leopardi, appartatissimo, come è noto nel nativo Borgo Selvaggio, quella Re Canati Papalina, arretratissima che Leopardi detesterà e da cui cercherà di fuggire già dalla giovane età. Elemento ulteriore di confronto tra i due è l'atteggiamento nei confronti della religione. Dopo una gioventù scapigliata, Manzoni nel 1810 vive la famosa esperienza della conversione che lo porta a diriggere un monumento alla cristianità attraverso il romanzo, un monumento al quale arriva in passaggi successivi che prendono le mosse per esempio dagli innisacri. Leopardi dal canto suo, ostinatamente ateo e immaterialista, totalmente privo del dono della fede nonostante l'impostazione dell'educazione cattolica presente nella sua famiglia, non avrà mai la percezione di una vita oltre la vita. Infine, sembra un aspetto più esteriore ma in realtà è un aspetto sostanziale, la scelta delle due modalità espressive diverse da parte dei due. Leopardi è e rimane integralmente e profondamente poeta, tanto da ricorrere alle operette morali in un momento di stanchezza e di aridità, come dice lui, della sua vena poetica e a confinare la prosa appunto alle operette e allo zibaldone, cioè a un'opera di servizio o poco più. Manzoni invece, dopo vari tentativi che vanno nella direzione della sperimentazione, l'innosacro, la tragedia, l'ode, arriva ad una scelta della prosa estremamente consapevole e voluta che sarà quella da cui poi non tornerà indietro e che concluderà la sua carriera letteraria di fatto con l'edizione definitiva dei Promessi Sposi del 1840.